se starete vedendo questo video vorrà dire che io non sarò più verde non sarò più vabbè se ci sono eccomi eccomi come potete capire dal fatto che non ho la barba questo è un video pre registrato tanto tempo fa e ve lo posso anche dimostrare mi tolgo l'orologio vi faccio vedere in realtà tutti i video sono registrati ma questo è stato pre registrato vi faccio vedere guarda aspetta venerdì del 2001 ebbene sì siamo nel 2001 aspetta senti bene l'orologio niente non c'è sentito quindi questo video che ho pre registrato nel 2001 e l'ho tenuto lì e ho detto ai miei nipoti che nel caso in cui non mi avrebbero più trovato a nascondino avrebbero dovuto pubblicare questo video quindi se state vedendo questo video io magari sono vivo ma forse no e magari sono stato trovato no non è vero non sono chiare le regole in realtà di come doveva essere però diciamo cosa comunque ho registrato quattro video della serie degli shorts oggi eh quindi che siamo nel 2001 tra l'altro quindi pensate quanto ero avanti c'è che già io nel 2001 sto pensando al fatto che esisteranno gli shorts su youtube tra chissà quanto e poi non so quando avrà pubblicato questo video un'altra informazione che vi devo dire visto che sfruttiamo questa cosa del viaggio nel tempo quindi parlo a quelli del futuro comprate bitcoin eh no forse dovevo dirlo se venivo dal futuro allora vendete bitcoin no non lo so vabbè fate fate un po' come vi pare lo bitcoin non è non mi interesse e detto questo io spero che domani sarò vivo ubaldo parlando un attimo seriamente no in realtà è saltato un altro video ma tanto ve l'ho già spiegato mille volte e stavolta è stato più forte di me perché proprio non ho avuto modo di registrare perché tornavo a casa avevo quella mezz'oretta prima di cena dove mi riposavo un attimino cena e dopo ce la morivo c'è proprio distrutto mi sdravevo un attimo sul letto e nessuno mi vedeva più quindi è stata dura anche per me ok mi sono girate tanto le palle perché mi dà fastidio non fare niente poi non è che faccia niente di che cioè al limite faccio un video però mi dà fastidio cenare e subito dopo morire non fare nient'altro perché mi sembra un po' di sprecare il tempo dormendo più del previsto cioè io vorrei dormire da mezzanotte non mi sembra chiedere tanto non dalle 8 di sera però vabbè queste sono cose mie comunque questo era sempre un video del 2001 pre registrato pubblicato chissà quanti anni dopo quindi questo è un anello che dimostra che siamo nel 2001 e questo è un anello che dimostra che siamo nell'odistria dello spazio come dicono nel 2001 shanvee grav limits chissà quanti anni Grazie.